Non posso farti passare! Ehi, ehi, sta calmo! E ovviamente è strafatto. Stasera, io, sono qui per dire addio a tutti voi. Johnny, aspetta! Non devi farlo. Puoi ancora cambiare idea. Vuoi vedere che mi arrendo? È una cosa che mi aspetto da te. E sai perché? Perché sei sempre stato un cazzo di codardo, Carrie. Ti offrirò un ultimo consiglio in nome dei vecchi tempi. Tira fuori le palle. È ora di scrivere il futuro. Sei in ritardo! Adoro quando ti arrabbi. Mi fa ribollire il sangue. Sali! Prima che cambi idea! Silverhand! Ciao, Shaiten! Decolliamo! Tieni, mettiti queste. E non te le togliere, intesi? Nerva è verde, i cieli volano, i gatti ballano, i topi brillano. Il Mayframe non è un parco giochi, Murphy. Muoviti! L'annuncio di evacuazione. Diffondilo su tutte le frequenze e poi andiamo. Merda! Chi ha scritto questo comunicato? Vuoi davvero che ti risponda? Cristo, Johnny, sei proprio fuori di testa. E te lo dice uno strizzareti. Forza! Stanno attaccando! Preparati! Non si guarda in mano! Sono colpita! Sono colpita! Sul serio! Merth? Idea della caccia. Tentò di ammazzirla con cura per ricucirla. Johnny, gli esplosivi! Bushido 2, come si chiamava la bomba? Chiudi! Dobbiamo levare le tende! Demolitron. Pronti all'esplosione. Elite Arasaka in arrivo! Correte! Spara ai cavi! Vai girare quei rotori, stiamo arrivando! Non ho finito. Devo ancora diffondere questo nella sottorete. Cazzo, lo sapevo! Non c'entra niente il colonialismo corporativo. È per vendicarti della tua gruppi, vero? No, tu non capisci, Rogue. Hai quattro cazzo di minuti! L'elicottero non ti aspetterà un secondo di più! Serratura disattivata. Figli di Troia Arasaka in arrivo. Ti adoro, Spider. Mi amano tutti. Andiamo al punto d'accesso. Inserisci. Bella Icebreaker. Straniero, giusto? Mi chiedo se abbiamo qualcuno in grado di cambiare il protocollo della sottorete. Divertente. Corri, Johnny, come il vento! Johnny, muoviti! Smasher! Te l'avevo detto, Johnny. Te l'avevo detto che ti avrei ucciso. Selezione! Te l'avevo detto, hallista. Immagina diello scopo di dunque. Ecco, eh! Scusate. Mi origini! Amore! Fui! Grazie a tutti. E tu? E tu chi sei? E tu? Oh, pesa più di quanto sembri. Senti, ascolta, amico. Ho fatto tutto quello che volevi. Perché ora io e te... Escolta. 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 Agir. Lui è un bistri. Presto. Escolta. Victor. Pensera. Lui. A noi. Dobbiamo arrivareci in qualche modo. Chiamo qualcuno. Chiunque. Ok. ...ma non troppo in profondità. Ci saranno dei Neurosocket auto-siliari, tra i suoi linfonodi, sotto il muscolo SCM. Se prendo una vena per sbaglio, morirà. Esatto, ma se non fa nulla, morirà. Forse ho trovato i socket. Ora proceda a connetterla. Su, portiamola dentro. Non so se ce la faccio. Devo riposare. E tu o quel sangue? Misti! E tu o quel sangue?